Buongiorno a tutti, di nuovo a Ho Ragione Avvocato. Ormai siamo entrati nella simpatica routine, perché comunque almeno abbiamo i tempi, abbiamo la nostra agenda con lo scadenziario e quindi diciamo che settimanalmente se tutto va bene avremo modo di proporvi il nostro appuntamento e le novità di cui vi avevamo parlato la volta scorsa sono in essere. Quindi aspettatevi nelle prossime puntate, una maggiore anche partecipazione proprio da parte vostra. Bene, oggi iniziamo subito, la volta scorsa c'era stato un lungo prologo, ma eravamo appena tornati dalle vacanze. Stavamo ancora a questo... Ecco, però io inizio questa volta con un argomento che appunto ci siamo lasciati da poco alle spalle, cioè la sospensione feriale dei termini. Un argomento che era molto interessante quando uscì la prima legge, l'unica che poi è stata un po' ritoccata, la legge 7 ottobre 69, numero 742, e sostanzialmente affermava e afferma che la sospensione feriale dei termini processuali, quindi che riguarda noi avvocati e perché per i giudici invece la questione è un po' diversa, relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è prevista nel periodo intercorrente tra il primo agosto e il 15 settembre di ogni anno. Cioè in pratica non si dovrebbero, salvo adesso vedremo le ovvie eccezioni, non si dovrebbero trattare affari legali e se noi avessimo appunto, come abbiamo quasi sempre, dei termini da rispettare per una scadenza di un atto d'appello, di impugnazione o per qualsiasi altra situazione, viene cristallizzato questo termine, non corre, sta fermo, non corre tra il primo di agosto e il 15 settembre. Per precisare, non è che gli avvocati fanno ferie dal primo agosto al 15 settembre? No, anzi, poi ci sono delle eccezioni, che adesso leggeremo, ma proprio anche delle situazioni pratiche, quest'anno mi sono trovato un'udienza il 13 di agosto, perché è una questione anche che mi è capitata un po' di anni fa, urgente, e delle notifiche da fare a tribunale di Verbagna nella settimana di agosto, perché erano all'estero. L'attività dello studio va avanti, rimane congelata quella particolare. C'è da dire che oggi come oggi veniamo anche raggiunti maggiormente, perché un tempo non c'era la posta elettronica, non c'era neanche il fax, parlo di tanti anni fa, non c'era nulla, e quindi proprio le notifiche erano semplicemente e esclusivamente quelle fatte a mano dall'ufficiale giudiziario. Oggi come oggi una notifica ti può arrivare anche a mezzo PEC, posta elettronica certificata, e benché magari il professionista faccia il conto e dice ma no, questo fattispecie rientra nella sospensione, dite ho tempo, però... Tant'è che siamo costretti, come io quest'anno, ma ormai da qualche anno, a portare anche in ferie, in vacanza, la possibilità di accedere alla posta elettronica. I terribili oggetti, cioè il computer, magari il telefono, eccetera. Perché non si stacca mai del... Comunque vediamo ecco le eccezioni che sono previste da questa legge, cioè la sospensione dei termini è espressamente esclusa per le materie indicate all'articolo 92 della legge sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941, numero 1. Allora, le cause di sfratto e le relative opposizioni, le controversie individuali di lavoro, i procedimenti cautelari, le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, le cause relative agli alimenti, i procedimenti per l'adozione in materia, ecco, di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, proprio il tipo di cosa che mi è capitato il 13 di agosto, i procedimenti contro gli abusi familiari, la dichiarazione e la revoca di fallimenti, i procedimenti di opposizione all'esecuzione, e poi ovviamente questo dice la legge, poi ci sono alcuni casi che invece sono stati oggetto di pronunce giurisprudenziali, perché è inutile negarcelo, la Cassazione sostanzialmente integra, colma e spesso crea una parte di norma mancante, salvo poi quel discorso interpretativo, a volte si muta indirizzo, ma questo ci porterebbe molto molto lontano. Comunque la sospensione, secondo giurisprudenza recente, non si applica anche alla opposizione alla esecuzione, trattasi di esecuzione immobiliare o immobiliare, insomma comunque non certamente un'esecuzione capitale, ecco, e nonché all'opposizione agli atti esecutivi, questo l'hanno detto diverse Cassazioni degli ultimi cinque anni, anche l'opposizione di terzo all'esecuzione e naturalmente, ecco, l'ultima precisazione, il giorno 16 settembre deve essere considerato poi nel conteggio come primo giorno utile, come mai cristallizzato dall'interpretazione della Corte, vale a dire quando comincia a decorrere di nuovo il termine appunto dal 16 di settembre. Però, ripeto, noi professionisti siamo spesso prudenti e stiamo molto attenti, se proprio non siamo necessitati, magari un atto lo prepariamo anche prima e lo depositiamo anche prima, non si sa mai. Volevo, ecco, citare solo una cosa abbastanza importante, perché mi è stata anche chiesta, nel caso in cui, e c'è anche Cassazione su questo, nel caso in cui fosse invece una opposizione, per esempio per una sanzione erogata per violazione del codice della strada, famoso articolo 186, guida in stato di ebrezza, e si faccia ricorso non al giudice di pace, ma al prefetto, si operi questa scelta, essendo un'opposizione prefettizia, quindi non giurisdizionale, il termine di sospensione non si applica. Bene, lascio la parola al collega Bastetti. Bene, grazie. Allora, volevo man mano cercare di rispondere alle varie mail che abbiamo ricevuto. Una prima mail ci poneva questa domanda, cioè il diritto del conduttore all'indennità, ad ottenere l'indennità per le migliorie. Invece l'altra domanda che volevo rispondere, che è totalmente diversa, questa non è frutto di una mail, ma di un amico medico, mi diceva quanto potesse valere il parere del minore nel consenso informato relativamente a un trattamento massimo. Bella e dedicata domanda. Brevemente cercherò di rispondere ad entrambi. Allora, intanto, per quanto riguarda, forse ne avevamo già parlato in passato, per quanto riguarda il diritto del conduttore ad ottenere l'indennità delle migliorie apportate. Allora, questa materia è disciplinata dagli articoli 1592 e 93 del Codice Civile. In 92 si riguarda proprio le migliorie, cioè i miglioramenti che sono quelli che accrescono l'utilità e il valore della cosa rimanendone intressicamente assorbiti. Per cui sono tutti quegli interventi che ne accrescono in modo durevole sia il godimento, la produttività, la redditività e sono incorporati nella cosa. Mentre le addizioni sono quelli che rappresentano un elemento estrinseco alla cosa stessa, costituendo delle aggiunte. Ecco, il concetto fondamentale, il concetto che i conduttori devono tenere presente, che queste migliorie che loro dovessero portare alla cosa locata non implicano un indennizzo da parte del locatore, salvo che vi sia il consenso del locatore stesso. Per cui la legge prevede che se un conduttore dovesse portare delle migliorie non autorizzate, non preventivamente autorizzate, non ha diritto il conduttore ad ottenere il rimborso. Parole povere e inutili, poi che alzi la voce. Certo, perché spesso capita, ho fatto, vado via, vado via, però le ho lasciate. In alcuni casi vanno via, sradicano tutto, mi è capitato, sradicano tutto, dicendo queste cose le ho fatte io e lasciano lì un disastro. Questo è anche, insomma, si cade anche nel penale, insomma, ci sono anche dei profitti di quel punto di vista. Allora, nel caso in cui vi sia stato il consenso del locatore, allora, il conduttore, cioè il consenso a fare la miglioria, il conduttore ha diritto a un'indenità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa, cioè quanto ha pagato, e il valore del risultato utile ottenuto dal locatore, cioè la minor somma delle due. Cioè, tra quanto ha pagato la fattura pagata e l'utilità del conduttore, del locatore, chiedo scusa. La fattura pagata dal conduttore e l'utilità che il conduttore, che il locatore ha. Sì, la minor somma tra queste due ha diritto ad ottenere. Beh, anche in questo caso, come avevamo parlato nella scorsa puntata, della necessità di una perizia tecnica. Perché l'avvocato non può dare una stima. No, beh, in questo caso occorrerà valutare, uno, quelle che sono le fatture pagate dal conduttore per le migliorie, due, l'apporto della maggior utilità rispetto alla situazione precedente dell'immobile e a questo punto, fatte queste debite e valutazioni, il conduttore ha diritto a ottenere la minor somma. Però, come ho detto, sempre nel caso in cui sia stato autorizzato dal locatore. E' comunque toccato un tastino nero sulla tastiera del pianoforte, perché diciamo allora ai conduttori che è bene, ovviamente, che abbiano le fatture delle migliorie. Uno, senz'altro, devono avere fatture, anche per dare prova. E' certo. Perché se un locatore può dire, beh, era già così. Quindi, siate, voglio dire, attenti alla legge. O quantomeno, prima di fare una miglioria, farsi autorizzare per iscritto. Esatto, esatto. Quindi, non fate tanto per fare. Perché poi è difficile dire, ah, ho telefonato al locatore, mi ha detto, sì, sì, faccia pure. Tante volte dicono, faccia pure, ma poi manca la prova, no? Nel reprobatorio. Perfetto. Ecco, un'ultima cosa. In mancanza di questa autorizzazione, eventualmente il valore delle migliorie, anche in mancanza di mancanza, può compensare eventualmente i danni che si sono verificati senza colpa del condo. Senza colpa. Non causiamo dei danni apposta, tanto ho fatto delle migliorie. Ecco. Cioè, insomma, teniamo presente questi elementi. Allora, brevissimamente, proprio perché il tempo passa, per quanto riguarda la seconda risposta al quesito che mi aveva sottoposto questo amico medico. Quello del consenso. Il consenso informato ai minori, no? Per cui ci si chiede se il soggetto minore dell'età ha un valore, la sua volontà, nel caso in cui fosse esplicitata, nel caso in cui avesse necessità di un intervento, di un intervento medico, che può essere anche ai denti. In questo caso dobbiamo dire che, per quanto riguarda i pazienti minori, la titolarità a dare il consenso informato rimane sempre in capo ai minori. Poi, l'articolo 2 del Codice Civile prevede che i minori non sono in grado di manifestare questa volontà, no? Fino al compimento della maggiore età. A grandi linee. Questo però, delle incapacità assoluta del minore a manifestare la propria volontà sino al compimento della maggiorità. Diciamo che incontra un po' un temperamento, sia per quanto riguarda l'intervento di convenzioni internazionali, sia anche per l'immotamento della giurisprudenza, in quel senso. E per cui si tende sempre più a dare un maggior peso e pertanto privilegiare il concetto dell'effettiva capacità del minore ad esprimere un consenso. Per cui, in buona sostanza, il minore, anche alla luce di questi interventi delle convenzioni internazionali, non potrà comunque, qui in Italia, proprio perché esiste questa incapacità del minore di età, e c'è l'intervento di genitori, di chi esercita la patria, la potestà genitoriale, diciamo, non potrà mai il minore esprimere lui il consenso informato, sottoscriverlo, però il medico dovrà attentamente valutare se reputa appunto che il minore abbia raggiunto un grado di maturità tale, anche se non la maggior età, deve opportunamente valutare anche quello che è il consenso, la volontà del minore rispetto a un determinato trattamento. Ecco, mettiamo un trattamento, non so, facciamo una cosa dei denti, no, un intervento dentale, no, per non dire cose più grave, insomma, in questo caso il consenso informato andrà sempre sottoscritto dal, chi esercita la potestà genitoriale, però il medico dovrà necessariamente sentire, ad esempio, se il minore ha 16 anni, 15 anni, 14 anni, ed è maturo, nel senso di esprimere un certo volere in un senso o nell'altro, il medico dovrà anche sentire il minore ed è opportuno magari annotare entrambe le volontà. Benissimo, abbiamo raggiunto il limite, però voi rimanete sempre sintonizzati su Videonovare, sulle emittenti collegate, anche per le altre trasmissioni, ma sappiate che ogni settimana vi aspetta con Gianmario Bastetti e Antonio Costa Barbet o Ragione Avvocato. Grazie a tutti. Alla prossima settimana, arrivederci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie.